Buongiorno a tutti, sono Naike e bentornati nel mio canale. Questo sarà l'ennesimo book tag che faccio e anche questo sarà ormai uno di quelli che avete visto e stravisto, però anche questo mi piace moltissimo, trovo l'idea carinissima e quindi ho deciso di riproporvelo anch'io. E questo l'ho visto dal canale, dicevo, l'ho visto dal canale Snack Attack, spero di averlo detto giusto insomma, comunque vi lascio il link del suo video qui sotto nell'info box. Ci sono in tutto, se c'è, eh sì se c'è, bellissima parola, dicevo ci sono sette social media e uno di essi bisogna associare un libro. Allora, cominciamo subito. Primo social media, Facebook, un libro consigliato da altri che ho apprezzato molto. In questo caso, rendi deciso tra due, quindi li cito tutti e due. Uno è il gioco di Ripper di Isabella Land, di cui ho visto una recensore su una pagina Instagram e che mi è piaciuto moltissimo. E l'altro, invece, è questo qui. Aspettate che lo prendo. Ecco qua. È Fahrenheit 451 di Ray Redbury. Questo romanzo l'ho scoperto appunto grazie al ragazzo del canale Snack Attack, perché ne ha parlato anche lui nel suo video. Questo libro, l'ho già sentito, non mi ero una o due volte in passato, ma non mi ero mai interessato, fino a che appunto, sentendo un po' la trama da lui, mi ha incuriosito e quindi ho deciso di prenderlo. E veramente consigliatissimo. Poi, secondo social media... Mi viene da dire... Vabbè, lascia la perdere. Secondo social media, Twitter. Un libro breve che vuoi condividere con il mondo. Allora, anche qua, in realtà sono più libri. Allora, uno è l'autobiografia di Zeina, cioè Schiava, di cui vi lascio la recensione... Te lo posso fare oggi a parlare veramente. Vi lascio la recensione di Zeina, di questo romanzo... Sì, di Zeina. Vi lascio la recensione di questo romanzo sotto nell'info box. Poi, vi consiglio la trilogia di Dark Visions, di Lisa Jane Smith, che è quello che ha scritto anche per The Vampire Diaries, Il diario del vampiro. Perché anche quei tre libri comunque sono veramente sottilissimi, hanno 100 o qualcosa di facile. Anche questo ne ha poche. Non arriva neanche a 100 questo. Sì, anzi. 135. E poi vi consiglio anche I cacciatori di vampiri di Colling Leeson. Anche questa qua è una serie, una saga. Io però ho soltanto il primo. E questo qua ha 276 pagine. Poi, terzo, social media. Tumblr. Non so la pronuncia. Un libro che ho letto prima che diventasse famoso. Allora, in realtà io i libri che leggo o non li conosce quasi nessuno oppure, nel senso che poi magari non diventano famosi oppure sono già famosi. Quindi, niente. Poi, quattro. MySpace. Un libro che non ricordi. Allora, per questo ho scelto Seita di Alessandro Baricco. Diciamo che me lo ricordo vagamente perché ho fatto la recensione. vi lascio anche di quello il link della recensione nell'info box. Se no, anche prima mi ricordo molto, molto vagamente la storia, ma neanche benissimo perché veramente non mi è piaciuto. Poi, cinque, Instagram. Un libro con una copertina così bella da essere addirittura fotografata. Qui mi ripeto, anzi no. La mia risposta sarebbe stata o Fahrenheit 4151 o Dark Visions di Lisa J. Smith. Però, do un'altra risposta, risposta, risposta per non fare tutte le risposte uguali, che è questo qui. L'autobiografia di Alessandro Del Piero. Giochiamo ancora perché, a parte che mi piace Del Piero, poi trovo che comunque la copertina sia molto bella. Poi, un'altra che mi piace è anche Inferno di Dan Brown. Poi, sesto, YouTube. Un libro che ti piacerebbe vedere adattato a film. Allora, io sono molto scettica sui film tratti dai romanzi perché spesso o tagliano o cambiano delle cose. Uno è sicuramente Inferno. Sto aspettando con impotenza il film perché secondo me lo fanno. E so già che comunque mi piacerà. Poi mi piacerebbe vedere Cacciatori di Vampiri. Dark Visions di nuovo. Poi, sette. Ah, e mi piacerebbe anche vedere lo sto dimenticando il cui dice attraverso i secoli. E sono già in fibrillazione perché a novembre uscirà il film Gli animali fantastici dove trovarli. Io sono già in attesa. Detto questo, che probabilmente non me ne frega niente. Ultima domanda. Goodreads. Un libro che consiglio a tutti. Allora... Sarò noiosissimo in questo video però mi ripeto di nuovo e dico Dark Visions di Lisa G. Smith. Questo era tutto. Se vi è piaciuto lasciatemi un commento e un like e condividete. Se decidete di rifare questo video lasciatemi il link nei commenti così andrò a vederlo. Questo è tutto e ci vediamo alla prossima. Un bacio. Ciao. Ah, e fatemi anche sapere se vi va cosa pensate dei libri che vi ho consigliato. E vi lascio nell'info box i link di alcuni libri di questi libri che ho recensito. Ciao, alla prossima.